Ok, le emergenze, i dolori, te le fanno nelle strutture ospedaliere, quelle non ti fanno gli impianti, le protesi. Qua cosa? I denti dall'arte. La gengiva che guariva qua, si è preoccupato perché c'era la ferita qua nel palato. Qua aveva fatto prelievo di gengiva dal palato. Ok, ci vuole tempo perché guarisce la zona di prelievo. Ha un buco nel palato. Dice che ha un buco nel palato. Qua quando fa l'operazione si crea la fibrina, che è una sorta di cerotto naturale. Se però poi mangi e quel cerotto va via, rimane il buco. Prima non c'era, ora c'è il buco. Oddio che c'ho? Quella guarisce. Nell'arco di circa una settimana scompare.